Novità per i piemontesi che hanno problemi con le compagnie telefoniche. Dal 23 luglio entrerà in funzione la piattaforma ConciliaWeb per presentare le richieste di conciliazione a distanza. Il nuovo servizio, che non richiederà la presenza fisica degli utenti nelle sedi di conciliazioni, è stato presentato giovedì 19 luglio a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Noi passiamo da un sistema fondamentalmente analogico, se così lo vogliamo considerare, di presentazione del tentativo di conciliazione che prima veniva presentato manualmente, fisicamente o via mail, adesso invece passiamo a un livello che accentra tutto a livello nazionale. Quindi cosa vuol dire? Che tutti i Core Comunitale gestiranno dal punto di vista informatico il tentativo di conciliazione tra utenti e compagnie di comunicazioni nella medesima maniera. Fondamentalmente sarà un sito web in cui l'utente si dovrà registrare, compilerà le parti dedicate al tentativo di conciliazione e la conciliazione sarà totalmente informatica. Il nuovo regolamento prevede che le istanze siano presentate unicamente attraverso la piattaforma, accedendo a partire dal 23 luglio alla pagina web www.conciliaweb.agcom.it